Amici appassionati di tecnologia, la linea A di Samsung nel 2021 è veramente da tenere in considerazione. Dopo aver provato l'A72, sotto riflettori ci va lui, il Galaxy A52 nella versione 5G. Ampio display, audio stereo, impermeabile, quindi certificato IP67, tante belle fotocamere, una colorazione che secondo me è molto molto bella, ben riuscita, brava Samsung, allora si può partire con questa recensione completa. Confezione di vendita del Galaxy A52 5G, beh un pochino povera di accessori. Caricatore 15W, cavetto USB tipo C, mancano le cuffiette, manca la pellicola preapplicata, manca la cover in dotazione. Beh Samsung nel 2021 si dimostra essere molto molto poco propensa a dare accessori nella dotazione dei propri telefoni. Ma eccolo qua, Galaxy A52 5G, pesa 189 grammi, è realizzato con un back in policarbonato, ma mi piace veramente tanto perché è opacizzato, quindi non cattura le impronte, ed è in colorazioni vivaci, allegre finalmente, basta soliti colori smorti. Qui abbiamo questo celestino che mi piace e va ovviamente a riprendere anche il contorno, questo frame anch'esso in plastica, che prende sempre quella colorazione della back cover. Sempre sulla back cover ragazzi, 4 fotocamere, 64 megapixel al principale, stabilizzato atticamente, 12 grandangolare, 5 bokeh, 5 macro, in basso abbiamo anche il jack audio, quindi molti di voi saranno felicissimi, porta di tipo C che non porta fuori l'audio e il video, altoparlante stereo, quindi un'uscita, due uscite, eccolo qua il display, molto molto bello perché è un 6.5 pollici full HD+, superamolo ovviamente. Cosa cambia rispetto al Galaxy A52 nella versione 4G? Beh, il refresh rate che arriva a 120 Hz. E allora dove lo andiamo a trovare? Lo andiamo a trovare nella sezione schermo, andiamo nella uniformità di movimento, alta o standard. Avevo settato standard per testare un po' la batteria. Volevo testare quanto durava con i 120 e con i 60 Hz, ovviamente attivando i 120 Hz, guardate come sia molto molto più veloce, il solito menu a tendina di Samsung, c'è ovviamente la dark mode che attiveremo fra un attimo perché voglio farvi vedere sul bianco i bordi. Non sono tanti, quindi è un telefono molto molto godibile sul frontale, sempre come nella versione 4G, 6 GB di RAM, 128 GB che sono espandibili. Però dobbiamo rinunciare a una sim, carrellino sim, che troviamo nella parte alta, oltre al microfono di riduzione dei rumori. Bello bello il display, altra differenza con il modello 4G sta nel processore, perché abbiamo uno Snapdragon 750G invece del 720. Meglio o peggio? Come funziona? Beh, lo vediamo fra un attimo. Intanto vi faccio vedere se lo vado a bloccare. Lo usano display con solite notifiche che sono, diciamo, interattive, basterà picchiettare sull'icona, poi entreremo direttamente nella notifica. Avete già visto l'impronta digitale che funziona molto molto bene, non è fulminio però funziona bene e questo è quello che conta. Vado anche a farmi riconoscere tramite sblocco con il volto, 2 su 2. Vedete, non è velocissimo nel riconoscermi, però l'importante secondo me è l'affidabilità. L'affidabilità che passa anche da una batteria da 4.500 mAh, che ha una ricarica fast fino a 25 Watt, ovviamente non è wireless, gli manca questa caratteristica. Come si comporta? Allora, l'ho usato sia con i 60 che con i 120 Hz e ho anche gli screenshot pronti per voi. Partiamo dalla migliore e peggiore delle ipotesi. Beh, nella peggiore delle ipotesi, 4 ore e 25 di display attivo. Mentre se siamo bravi nel mantenere l'energia, 5 ore e mezzo. Quindi una batteria che varia dalle 4 ore e mezzo alle 5 ore e mezzo di schermo attivo. E secondo me non è affatto male, è quello che mi aspetto da un telefono con questo hardware. Un hardware che vede anche una certificazione IP67 contro l'acqua e polvere. In soldoni lui resiste fino a un metro d'acqua per 30 minuti. Mi raccomando, non lo mettete alla prova. È sempre brutto tirar fuori lo smartphone e vedere che si è bruciato o si è fritto. Quindi ragazzi, fate molta molta attenzione. E visto che ho con me anche un Galaxy S21 standard, vi faccio vedere il confronto dimensionale. Il display conta molto e quindi vedete chi ama il display un po' più piccolo, chi ama il display un po' più grande o comunque quanto c'è di differenza dall'S21. Beh, è questa la differenza, non è marcatissima. Cambia però il posteriore come sono collocate nello spazio le fotocamere. Non voglio stare troppo a parlarvi di S21. Vado ad attivarvi la modalità notte. Intanto vi dico ovviamente Android 11 con la One UI 3.1, insomma, aggiornatissimo. All'NFC, al jack audio abbiamo visto, gli manca il LED di notifica, ovviamente l'audio è stereo come la tradizione A del 2021, l'abbiamo vista in A72. Come gira? Andiamo a chiudere tutte le applicazioni, andiamo ad aprire Facebook, abbastanza veloce, lo scorrimento mi piace, mi ha convinto, la tastiera è bella ampia, ciao a tutti, poi torno indietro, apro Instagram, intanto vi faccio vedere anche la mia pagina. Ragazzi, seguitemi, Chasti Tech mi dovete assolutamente seguire se volete essere aggiornati su tutti i telefonini e non solo, perché si prova un po' di tutto ormai su questo canale, basta sia tecnologia e io la provo, guardate un po' anche voi, vi aspetto su Instagram. Facciamo anche la prova browser, siamo su Amazon, andiamo a cliccare, vedete come apra tutto abbastanza velocemente, non l'esperienza di navigazione più veloce e fluida in assoluto, però dai, va molto molto bene. E rimaniamo a parlare di fluidità, andiamo a chiudere un po' tutte le applicazioni, apriamo Asphalt 9, premiamo su gioca, vediamo un po' quanto impiega ad aprirsi Asphalt 9, punteggi di AnTuTu e Geekbench, che mi hanno convinto, sono anche abbastanza alti, ha già caricato e ovviamente noi che siamo pignoli andiamo alla ricerca dei mini lag. Vediamo se li troviamo, intanto vi dico che l'immagine scorre, eccolo, il classico lag sull'uno immancabile, c'è sempre, a meno che non si tratti di top di gamma con i processoroni, qualunque processore di medio-alto gamma, vado a provare, c'è sempre quel lagghettino sull'uno, è un po' il tallone da kill di tutti i smartphone, però ragazzi, difficile poi lamentarsi della giocabilità con questo smartphone, che ha un processore degno di essere, diciamo, catalogato fra quelli adatti al gaming, e qui la giocabilità, secondo me, fila liscia. Andiamo ad attivare un brano mp3, volume al massimo. Ecco, l'audio mi è piaciuto, bello alto, i bassi ci sono abbastanza, sono nella media, ragazzi, non abbiamo mai quella sensazione di Dolby Surround, però è un cellulare, non dobbiamo farci la discoteca, e ha la possibilità di usare anche il Dolby Atmos per un'equalizzazione, un'esperienza d'uso in cuffia migliore. A livello di personalizzazioni, ecco la classica barra che non può mancare, la barra laterale degli ultimi Galaxy usciti sul mercato, abbiamo sulla sinistra l'aggregatore di notizie di Google, se teniamo premuto andiamo nelle impostazioni, possiamo cambiare la griglia, possiamo cambiare i temi, ovviamente ce ne sono tanti scaricabili dal Galaxy Store, beh, tanta personalizzazione. Non scalda praticamente mai, sia nel gaming che in chiamata, sia usando la fotocamera, e appunto vi parlo di fotocamera. Una fotocamera tripla, quindi mettiamo un po' questa scatolina come oggetto, e andiamo a fare lo scatto, quindi la fotocamera può essere grande angolare, principale, o zoom. Lo zoom massimo è un 10x, quindi mi raccomando la mano che deve essere ferma per evitare l'effetto tremolio, e poi solite impostazioni, flash, il taglio della foto, tutto schermo 1, 1, 16, 9, 4 terzi, nelle impostazioni sulla destra, scatto singolo, poi la fotografia, video, video possono essere registrati in 4K a 30 fps, apro una piccola parentesi, perché anche la selfie cam registra nella stessa risoluzione, 4K a 30 fps. Questa è una cosa molto positiva, e vi dirò un'altra cosa, la selfie cam, anche essa, essendo comunque una da sola, può essere anche grandangolata, fra virgolette, se mi concedete il termine, ovvero abbiamo sempre l'alberello che permette di espandere l'angolo di azione, quindi per un selfie magari con una persona o due, un selfie di gruppo sostanzialmente. Per finire, nella sezione altro troviamo Bixby Vision, spazio AR per andare a inserire qualche bella faccina, vedete, nella scena, ma io non sono tipo da faccine, concludiamo con la modalità notte, macro, super slow motion e ritratto, quella che va a sfocare il volto, l'effetto bokeh sostanzialmente, oltre al disegno AR. Come vengono le fotografie? Passiamo dalla galleria, e si parte dalla cam principale, ragazzi, che bellezza, andare ad utilizzare questa cam, una cam che scatta foto veramente notevoli, a cominciare sia da vicino, ma anche da lontano, e vi faccio vedere anche le varie, diciamo, fotocamere in azione, sia la normale, sia la grandangolare, sia quella ravvicinata, lo scatto più ravvicinato, ma non solo, sia di giorno che la sera, anche con luce artificiale, gli scatti sono veramente, veramente notevoli. Concludo anche con la selfie cam, che personalmente a me è piaciuta, mi aspettavo questo risultato, e il telefono non mi ha deluso. Sostanzialmente, Galaxy A52, può essere pensato, per un pubblico esigente, dal punto di vista della fotografia, e con lui, non delude mai. Appassionati? Secondo voi, quanto abbiamo speso? Per portarsi a casa lui, il nuovo Galaxy A52, nella versione 5G, badate bene, non è quella del video, la classica versione 4G, servono di listino 449 euro, che sicuramente, alcuni di voi diranno, troppi. Il bello dei telefoni Android, specialmente di Samsung, è che, dopo qualche settimana, il prezzo scende, 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 ma non di tanto. Online si può trovare, intorno ai 350 euro, giù di lì, troverete il link all'acquisto, sotto, in descrizione. Ragazzi, che dire di questo smartphone? Beh, medio di gamma, forse punto di riferimento. Perché? Perché ha tutte le caratteristiche, che l'utente vuole, da un telefono di questo livello, ovvero l'audio stereo, un bellissimo display, un refresh rate alto, una serie di fotocamere, che scatta delle belle foto, sia di giorno, che di notte, e una buona batteria. E con lui, secondo me, potrebbe essere il medio di gamma, ideale per tanti di voi, soprattutto per chi ama, il brand Samsung. Fatemi sapere, anche quello che ne pensate, per me, lui, la 525G, è promosso, con voti molto molto alti. Se vi è piaciuto stare in mia compagnia, lasciate un bel like al video, e noi ci vediamo prestissimo, con nuove recensioni. Ciao!